ciao a tutti ho acquistato questi vetri per il mio iphone 5s che adesso andrò ad applicare insieme a voi due parole 0,25 mm dovrebbe essere resistente a scratch quindi graffi addirittura esplosione touch sensibile ma adesso vado direttamente a montarlo sullo schermo due cose riguardo a quello che arriva allora abbiamo due sacchettini col contenuto identico cosa c'è allora quelli per togliere la polvere le etichettine abbiamo poi lo straccettino imbevuto di alcol per lavare lo schermo un'altra etichetta per togliere i granelli di polvere poi fanno in microfibra contenuto due vetrini uno è uno due ne vado ad aprire uno al volo ecco sono così hanno il foro del tasto home e il foro dello speaker e sono effettivamente sparsi apparentemente 0,2 nel dimentico come vedete l'applicazione è efficace non sono rimaste bolle apparenti l'ho messo anche velocemente in circa tre minuti e adesso cerco di rimuovere magari queste piccole bolle che sono apparentemente neanche osservabili ed è tutto spero che questo video vi sia stato utile e se avete domande sono qui non esitate a pormelo